dunque cosa fa un editor è una domanda in effetti fondamentale per chiunque si approcci al lavoro da professionista nel fumetto ma anche nella letteratura. L'editor in un certo senso può essere paragonato al produttore in ambito cinematografico, cioè la persona che segue lo sviluppo di un'opera a fumetti, è la persona che segue gli autori durante la lavorazione del fumetto, che sia una serie, che sia una granific novel, che sia una striscia o una pubblicazione che necessita di una schedule, quindi è quello che dà i tempi, che si fa a odiare, ed è quello che dà anche, in base al tipo di progetto, dei feedback agli autori relativi sia alla parte disegnata che alla parte scritta. Molti editor, nella maggior parte dei casi, fanno anche un lavoro di scouting, ovvero nel corso delle manifestazioni a fumetti o nel corso di eventi veri e propri, sono i punti di riferimento per chiunque abbia un progetto e un po' quindi fungono da interfaccia fra gli autori e la casa editrice vera e propria. Fare fumetti chiaramente non è una scienza esatta e ci sono diversi modi di farlo. Per farlo chiaramente oggi c'è anche la possibilità di pubblicarsi da soli tramite crowdfunding, tramite pubblicazione online eccetera. Certo è che avere una casa editrice alle spalle ti consente di avere un accesso più canonico, più professionale. Per parlare con una casa editrice bisogna presentarsi in un modo che sia accettabile, ovvero parlare se possibile la stessa lingua dell'editore. La prima cosa da sapere è che non tutti gli editori vanno bene per qualsiasi tipo di fumetto. Un editore che pubblica graphic novel probabilmente non sarà interessato a una striscia satirica, chi pubblica fumetti di supereroi forse non è interessato alla storia intimista, sulla autobiografica, sulla propria infanzia e così via. Quindi intanto la prima cosa da fare da lato autore è sapere qual è la casa editrice che si ha davanti e imparare a scegliere la casa editrice anche in base al proprio progetto, il che vuol dire avere le idee molto chiare su quello che è il proprio progetto. Una cosa fondamentale è anche molto difficile per chi magari per dei mesi ha ragionato su una storia o ha lavorato sulle tavole eccetera ed è anche un po' un esercizio brutale e sfiancante. Però se l'obiettivo finale è la pubblicazione questo è un passaggio necessario e imprescindibile. Mi occupo di sviluppo di progetti originali per Panini Comics. Ogni anno Panini pubblica circa 1500 o 1700 diverse uscite, per fortuna non passano tutte per le mie mani. Mi concentro però sul lavoro appunto con gli autori. Scegliere un unico progetto tra quelli che seguo è molto molto difficile, soprattutto perché insomma non voglio scontentare nessuno. Ci ho detto quest'anno c'è stata la fine di Ratman è sicuramente un momento storico per il fumetto italiano in generale e quello è sicuramente stato un momento molto emozionante. Viverlo da dietro le quinte insieme alle Ortolani è stata una grandissima emozione presentarla al pubblico a Piazza Duomo a Milano, è stato fantastico e questa emozione è stata abbissata poche settimane dopo dal lancio di C'è spazio per tutti che il volume lavorato da Leo in edito, una storia di Ratman, insieme all'Agenzia Spaziale Italiana e a Paolo Nespoli, l'astronauta che è tornato sulla Terra dalla Stazione Spaziale Internazionale appena qualche settimana fa. Farsi conoscere per un esordiente dagli editori o da altri autori in un periodo in cui è facile essere su delle piattaforme ad accesso semplificato come possono essere di social network non è facile perché la concorrenza è tanta. Per riuscire a raccogliere l'attenzione e catturare l'interesse di editori, editor o altri autori bisogna fare un extra sforzo. Non basta pubblicarsi sui social, non basta raccogliere tanti like, bisogna riuscire a pubblicarsi o a farsi pubblicare. Il modo migliore è pubblicarsi da soli, non significa spendere tantissimi soldi ma le autoproduzioni sono sicuramente la miglior palestra per un autore esordiente perché significa avere a che fare con tutta la filiera della lavorazione di un fumetto, dalla realizzazione della storia, ciascuno per le proprie competenze, al disegno, alla colorazione, al lettering, ma anche alla confezione del prodotto e soprattutto al rapporto con il pubblico finale, con gli utenti finali. Questa è un'esperienza che sicuramente aiuta e che serve poi anche quando si diventa finalmente degli autori affermati.